Svolta epocale nello spezia calcio, da quest'anno il settore femminile avrà la propria prima squadra con una maglia e i men sponsor dedicati. Questo permetterà a tutte le ragazze delle giovanili di poter dare continuità arrivando in prima squadra invece di cercarne un'altra. È un traguardo raggiunto che ha avuto pieno consenso da parte della famiglia Platek. È da una decina di anni che la società di Via Melara aveva avviato il calcio anche per le ragazze e le bambine. Abbiamo messo a terra questo progetto anche grazie ad Alessandra Massari, l'immobiliare Massari che ci ha permesso con la sponsorizzazione della maglia di aggiungere la possibilità di fare un progetto come si deve per la prima squadra delle ragazze. Un settore giovanile ben consolidato da tempo con esperienze delle varie squadre anche in tornei e in campionati nazionali. Con la prima squadra si chiude il cerchio e permetterà quel salto di qualità che mancava. Per la prima volta nella storia anche lo Spezia Calcio ha la sua prima squadra femminile. Siamo molto felici, molto orgogliosi. All'inizio di un percorso vogliamo crescere, vogliamo migliorarlo, avremo tempo e modi per farlo. Per me è il veicolo Spezia, dobbiamo assolutamente portarlo in giro con molto orgoglio. La squadra femminile ci darà la possibilità di girare tutta la Liguria e portare la nostra maglia in tutti quei campi e far conoscere che lo Spezia è una società che continua a crescere. Prima arrivavamo fino a un certo punto, adesso invece le ragazze devono avere l'obiettivo e l'orgoglio di dire vogliono indossare la maglia della prima squadra dello Spezia. Il campionato per la stagione 2024-2025 che disputeranno sarà quello di eccellenza. Partecipare al campionato di eccellenza è già un bellissimo risultato, ma ovviamente il percorso che stiamo facendo è anche nell'aspetto sociale di questo tipo di iniziativa perché coinvolge ancora di più e con un ulteriore tassello la nostra comunità che abbiamo visto anche ieri dare una dimostrazione di forza nella partita casalinga con la Carrarese. Grazie